Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo e benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Spero che le ferie siano passate bene. Qui fa ancora caldo, però riprendiamo le attività. Prima di questa breve sospensione delle attività ero andato dalla mia lattoneria di fiducia per farmi tagliare delle striscette di acciaio. Ne ho fatte tagliare 10 più un pannellino di sottofondo. Oggi, come vedete c'è il laser, vado a ricreare un piano di appoggio per i pezzi di lavorazione, per vedere che ti fa sfocare meglio i fumi di risultato alla lavorazione. Mettiamoci all'opera. Disegno una struttura che possa essere stampata in modo modulare e che non occupi troppo in altezza. Grazie a tutti. Approfitto del tempo di stampa per smontare la tavola a nido d'ape. Traccio e preforo la lamiera preparata dalla lattoneria in modo da poter fissare tutto in modo saldo sulla tavola dell'incisore laser. Grazie a tutti. 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 Sistemo per bene la lamiera prendendo riferimenti delle posizioni del laser e avvito il tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.